La informo che il suo cliente sarà accusato di omicidio plurimo. Aggravato da efferatezza. Non avete alcuna prova. Che cos'è? Questo nella foto è il braccialetto del suo cliente. È stato fatto con pelle umana. Nello specifico con sei o sette zone rosse delle labbra. I test del DNA confermano una vittima. È Zaneta Caleta. Stiamo accertando l'identità delle altre. Se il suo cliente decidesse di dirci dove ha nascosto i corpi, identificasse le vittime e fosse disposto a collaborare con le autorità, sono sicuro che questo potrebbe aiutarlo. Non troppo. Ma è qualcosa.